buongiorno ragazzi buon lunedì a tutti voi buon inizio di settimana a tutti i seguaci di youtube e a tutti i nuovi iscritti anche sul mio gruppo di facebook della casertana come va tutto bene spero di sì siamo qui quindi per parlare di nuovo nella nostra amata casertana la voce sta tornando pian piano perché ieri come al solito mi sono impazzito allo stadio specialmente a gol del grande Gigi Rastalto parleremo un po' più avanti di questo iniziamo dal fatto che ieri l'unica nota negativa purtroppo era il poco pubblico presente sugli spalti poco più di un migliaio comunque per una squadra che tutti si aspettavano purtroppo a dovesse vincere il campionato però ci ritroviamo purtroppo a lottare per un posto nei playoff con squadre che addirittura o sono state ripescate o fino a poco tempo fa erano in guai seri come la regina o altre purtroppo è così il pubblico viene quando si vince ma è da tutte le parti così quindi ragazzi ce ne faremo una ragione quando si ritornerà a vincere e a lottare per il vertice forse la gente tornerà però non voglio dire che comunque come fanno tanti tifosi che dicono se non venite al stadio non siete tifosi vabbè ci sono tanti motivi tanti e tanti motivi che uno non sa del perché uno non viene allo stadio ci può essere pure il fatto che non può venire per problemi di salute per problemi veri economici comunque vabbè detto ciò detto ciò iniziamo il commento della partita di ieri una casertana a tratti anche molto convincente specialmente nel primo tempo che abbiamo giocato bene messo in difficoltà comunque una squadra che ha dimostrato che era venuta a caserta per prendersi almeno il pareggio e c'era quasi riuscita la settana ha giocato bene il primo tempo prendendo anche il palo il pallone che non è voluto entrare stava entrando poi è uscito fuori e lì siamo guardati un po tutti in faccia abbiamo detto ecca la partita è stregata ecca la nata partita la massima pareggia invece a inizio del secondo tempo l'alino l'alino uno che onestamente non ci azzecca proprio questa categoria ma manca della serie b perché è troppo forte ragazzi gici castaldo si inventa un euro goal un euro goal stop di petto e poi bomba che neanche più forte mortiere avrebbe preso vantaggio della casertana i rieti comincia a giocare comincia a capire che se vuole pareggiare deve farlo subito e infatti dopo poco arriva il gol del pareggio su una ribattuta del nostro portiere il pallone prende una traiettoria sbagliata perché il portiere nostro la prende esce bene sul secondo palo ma il difensore dei rieti è più più capace di buttarla dentro il difensore attaccato comunque il giocatore dei rieti che ha segnato non mi se era il difensore o era l'attaccante quindi i rieti pareggia pareggia anche meritatamente perché stava iniziando a giocare forse un po meglio di noi che ce l'avamo afflosciati come facciamo ultimamente quando passiamo in vantaggio sembrava che fosse una partita alquanto strana sembrava che si ritornasse di nuovo indietro al 26 dicembre quando dopo il vantaggio di Padovan tutti credevamo che la partita si mettesse in discesa invece come ben sappiamo poi la secola al novantesimo puff c'era da su post e appareggiato questa volta invece no perché i nostri ragazzi hanno giocato alla grande applauso a tutti ma il migliore il migliore è sempre e solamente lui Gigi the best Castaldo dieci se ci fossero dieci Gigi Castaldo in campo tutte le domeniche la Casertana avrebbe già stracciato questo campionato perché Gigi non solo si prende la squadra sulle spalle se la carica ma è anche un lottatore un lottatore è un grande giocatore ragazzi un giocatore che incita dà coraggio anche ai giovani e lo dimostra l'errore di Lorenzini che gli va vicino e gli dà la pacca sulla spalla e gli dici forza forza che dobbiamo vincerla la partita e possiamo vincerla è un grande ragazzi è un grande e che dire dieci su tutto a Gigi Castaldo si è fatto malato tutto il tuo attore Eminem 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 ma va a fare un culo va è stanno meglio se non si tente preoccupare guarda caso esce tu o non giochi tu la Casertana vince sempre quindi secondo me il problema si è proprio tu ora si parla di Sarno eh ti manate a capare i giovi in due spogliatoi che poi tra l'altro è un giocatore che non ha giocato non gioca da 3-4 mesi mi sembra col Padova mi sembra che ha fatto due presenze solamente quindi va beh però io questa squadra ieri l'ho vista bene anche se c'è molto da migliorare perché il gioco comunque latita in varie parti del campo specialmente al centrocampo che perdiamo spesso palloni che non dobbiamo perdere fortuna nostra ieri comunque i vieti non è che era la grande squadra insomma mondiale anche se un plauso ha dato ripeto alla squadra perché ha affrontato ci ha affrontato a viso aperto e ha giocato le proprie carte avendo un'allenatura come Capuano che comunque non è l'ultimo scema di calcio ne sa cosa dire ragazzi concludo con il video sempre e saluto e sempre forza Casertana siamo felici finalmente abbiamo trovato una vittoria in casa e mercoledì si ritorna di nuovo al Pinto si rigioca in casa contro il Bisceghi e poi domenica a Catanzaro provando a vincere anche lì non sarà facile ma ci proveremo forza ragazzi non dobbiamo mollare forza ragazzi e speriamo che i tempi bui del girone di andata siano solo un lontano ricordo un abbraccio a tutti e sempre e solo forza Casertana risultato finale Casertana 2 Griti 1 al prossimo video buona giornata a tutti e forza Casertana